Nel video di oggi introdurremo l'importanza degli obiettivi didattici, ovvero della definizione degli obiettivi didattici ai fini di un buon apprendimento, di un apprendimento efficace da parte dei nostri allievi. L'insegnante efficace è un insegnante che prepara con accuratezza gli obiettivi che dovrà perseguire poi in classe con gli allievi. Una buona definizione dell'obiettivo, prevede la sua scrittura in termini operativi, pratici, di operazioni mentali, di procedure che l'alunno deve padroneggiare, di concetti che l'alunno deve dimostrare di aver acquisito, uniti alla loro definizione operazionale, ossia che cosa deve saper fare l'allievo per dimostrare di aver acquisito quel particolare obiettivo. La definizione operazionale significa in pratica redigere la prova di valutazione, la prova di verifica contestualmente alla definizione dell'obiettivo stesso. Ma la ricerca dimostra e ci insegna come gli alunni acquisiscono risultati migliori se vengono messi prioritariamente, preventivamente a conoscenza degli obiettivi che andranno ad affrontare durante il percorso didattico. Quindi l'insegnante efficace è un insegnante che comunica contestualmente all'inizio della lezione gli obiettivi sui quali gli alunni si troveranno a lavorare e gli obiettivi che sono gli stessi relativamente ai quali gli alunni verranno valutati in itinere e alla fine del percorso e che addirittura indica già dei modelli, degli esempi di prove e di verifica di modo che appunto l'allievo sappia esattamente cosa ci si attende da lui. Il docente efficace inoltre comunica la propria piena fiducia sul fatto che ognuno dei propri allievi potrà raggiungere l'obiettivo, consapevole che se gli allievi non raggiungono gli obiettivi o mancano dei prerequisiti e quindi dovremmo fare un passo indietro andare a costruire questi prerequisiti o mancanti oppure semplicemente le strategie che abbiamo utilizzato non si sono rivelate efficace e quindi dobbiamo riflettere e riformulare la nostra proposta e la nostra presentazione. Rendere gli obiettivi irraggiungibili a tutti è un ingrediente essenziale per realizzare un clima di classe sfidante. Approfondimenti su questo tema e molti altri suggerimenti, ragionamenti e indicazioni pratiche verranno poi svolte all'interno del corso.